Con il kit Matata Lab, un kit educativo per far imparare ai bambini il codice, noi abbiamo voluto fare una cosa diversa, cioè abbiamo preso un cartellone di scienza che riguardava il mare e l'oceano e con il kit abbiamo preso il robottino e sopra ci abbiamo messo un'immagine di una barca che va a fare il suo turno di pesca, poi abbiamo fatto dei bigliettini con tutti i pesci più importanti e in base a dove andrà il robottino metteremo il pesce, questo può aiutare anche i bambini a imparare a leggere. Questo kit ha una particolarità perché si usa senza computer, smartphone o tablet e oggetti tecnologici. Adesso sperimentiamo! Abbiamo fatto una programmazione e vedremo se adesso questo robottino lo eseguirà. Prendi il cartellino e mettilo vicino al pesce dove si è fermato il robottino. Questo aiuta anche a leggere, no? Ecco, ok, va bene, grazie! 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 Grazie!